La notizia che Kong presenta nel 2013 è questo nuovo AXIS che è iniziato dall'idea di avere un hammer, per esempio, per esempio, con un handle di wood. Sicuramente il handle di wood è il miglior modo per avere l'absorbimento e l'antivibrazione ai vostri armati. In questo caso, proviamo di simulare, lo meglio possibile, questo tipo di cose, realizzando questo tipo di handle che è fatto da tre shock absorberi, è un rubro speciale che permette di ridurre la vibrazione che viene trasferito ai vostri armati. Quindi, questa è la principale caratteristica di questo AXIS. Un'altra avvantaggio di questo AXIS è che è molto, molto flessibile. Quindi, è possibile customizzare ogni necessità che ogni climber ha bisogno, perché è possibile cambiare la massa sul topo, cambiare questa parte con un materiale diverso, con un peso diverso. Quindi, è possibile avere un peso diverso, più o meno, per inserire l'AXIS in gli occhi. Un'altra caratteristica che può permette di personalizzare questo AXIS sono due differenze delle handle. Un'altra più piccola e un'altra più grande, per piccola o grandi. In questo caso, è possibile cambiare solo per uscruire questo AXIS. è possibile re-inserire il modello che preferisci. La ultima, ma non lestamente, cosa che puoi cambiare è anche un'altra parte del AXIS. E' possibile avere un po' semplice, senza la massa sul topo, per l'ammer, e un po' senza la massa sul topo, per l'ammer. Queste caratteristiche permette di realizzare due modelli, e un po' semplice, più difficile, con pesci di pesci di pesci di pesci. E un po' semplice, con diversi soft absorberi di shock e pesci di pesci di pesci di pesci. Quindi, è più facile e più comforzato ad inserire l'AXIS nei occhi. Un altro avvento di questo tipo di AXIS è possibile cambiare la mano con una nuova procedura. Il standard è di rinforzare l'AXIS sul piede, con il rischio che puoi rompere il tuo giaccio. In questo caso, è possibile usare questo sistema per inserire l'AXIS in questo spazio e è possibile cambiare la mano e continuare a rinforzare in modo diverso.